direttamente dal museo festival della zampogna di villa latina a notte della tamorra 2019 i suonatori di zampogne organetti ciaramelle e danzatrici del basso lazio diretti dal maestro domenico fusco con diego fusco angelo fusco luca petrilli salvatore sarda che indosseranno abiti tipici della loro terra con i famosi scarpitti al suono di saltarelli e ballarelle danzeranno maya tedesco marilena norato lorenza di stefano e cinzia zomparelli per il popolo della tamorra della rotonda diaz le zampogne del festival e del museo di villa latina grazie a tutti 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 Grazie a tutti